Palazzo del Podestà, nuove sedi per la Scuola di Musica e per le associazioni culturali di Faenza. Queste le principali novità in ambito culturale che prenderanno vita nel 2019 in città. Sarà un anno il 2019 dove andremo ad inaugurare almeno tre importanti contenitori culturali che potranno fare la differenza nella nostra programmazione. Il primo è sicuramente la Scuola di Musica Sarti che si trasferirà e verrà inaugurata insieme alla Scuola Minardi in una grande struttura all'interno dei Salesiani, andando a completare il processo di rigenerazione urbana di quello spazio, di quel luogo di Faenza che già è e sarà sempre di più un cuore pulsante nella costruzione dell'anima e della vita quotidiana di Faenza. Lì ci sarà la Scuola di Musica. La seconda rivoluzione nella Scuola di Musica attuale è Excova, dove già c'è uno spazio di laboratorio, di associazioni culturali. Tutto quello spazio sarà dedicato all'associazionismo culturale, con particolare attenzione all'attività giovanile. Quindi avremo anche qui nel cuore della città uno spazio con una ventina di associazioni culturali che riusciranno a dare un contributo ancora più forte allo sviluppo della città. Il terzo spazio è sicuramente il Salone del Podestà. Lo inaugureremo entro la fine del 2019. Il Palazzo del Podestà sarà un centro pulsante, sarà un luogo con caratteristiche anche commerciali, quindi anche ad uso del sistema produttivo della nostra città e di tutta la Romagna, ma sarà un luogo dove la dimensione espositiva, la dimensione concertistica, che la dimensione di presentazioni libri e attività culturali di supporto agli eventi della città sarà decisiva.